Quindi il messaggio è questo, proprio alle donne che sono all'interno delle famiglie mafiose, sono loro che devono fare il primo passo, naturalmente noi come società civile possiamo aiutarne in questo. E oggi Maria Antonietta, il liceo e gli alunni hanno dimostrato di avere compreso a fondo questo messaggio, quindi oggi ho vinto una mia battaglia.